bentornate nel mio canale oggi facciamo dei peperoni ripieni e prima di guardare il video se non sei iscritta al mio canale iscriviti attiva la campanella è una ricetta povera ed economica ci occorre della mollica di pane del giorno prima formaggio grattugiato decidete voi rodez o pecorino 23 acciughe sminuzzate una decina di capperi anch'essi sminuzzati e un aglio tritato aggiungete le uova non mi chiedete quante queste sono ricette a sentimento dovete ottenere un impasto morbido ed infine aggiungete anche un po di sale e un pizzico di bicarbonato ora svuotate i peperoni già lavati dai semi e dalla placenta poi riempite i peperoni con il ripieno saporito il ripieno in una casseruola mettete dell'olio d'oliva e aglio in camicia tuffate i peperoni e fate cuocere con coperchio dopo 5 minuti aggiungete dei pomodori pelati a tocchetti freschi e anche un peperone tagliato a tocchetti aggiustate di sale, pepe e aggiungete anche un cucchiaino di zucchero se si asciuga troppo aggiungete un po' d'acqua e fate cuocere per circa 15 minuti sempre con coperchio che buoni questi peperoni e tu che aspetti a farli? ciao, ci vediamo alla prossima videoricetta!